Avete sentito? Hanno cantato tutto da soli, senza strumenti, questa bella canzone di Sergio Indrigo. Per Israele, il duo Daz in Cannes. Dirige l'orchestra il maestro Kobi Osrat. Per Israele. 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 Finlandia, arriviamo in un paese che conosco bene, ci sono stato quando ero ragazzo, anzi a proposito vorrei salutare tutte le signore che sono in Finlandia in questo momento, Mine Rakastan Sinuat, volete sapere cosa vuol dire? Vi amo. Allora, per la Finlandia una bella ragazza, pensate Bruna, nera con gli occhi verdi, stranamente perché ha un'origine lapone, infatti è nata al di là del circolo polare artico. Vediamo intanto la cartolina.